Ma io sento che all'asilo alcuni le dicono No Allora, oggi per sbaglio mi è scappata di dire a una tizia Brutta ZD Ma non hai detto brutta steta Hai detto brutta stoccoli Perché dite che brutti stoccoli sono delle parolante? Ma che è una parolata? Sì, è una parolata Non so Fermi un attimo Praticamente eravamo in macchina E c'era sta tizia che mentre girava ovviamente non ha messo la freccia E io ho detto brutta ZD Sole mi ha fatto una domanda E ho detto mamma come fa? Molto interessante Comunque Sole mi ha chiesto come facevo a vedere i zoccoli della tipa se era in macchina Anche te metti i zoccoli Sei una s***a anche te Sole Anche te Lei metti i zoccoli Lei mette i zoccoli dentro Sole È una parolata Perché lo dite che è una parolata?